Amici artisti, buongiorno, siamo qui insieme a Cinzia Spataro del progetto Filippi De Marche e a Piero De Santis del ristorante Il Gambero per presentare una cosa. Presentiamo la seconda edizione di Artisti in Festa con un super ospite e ve lo presento subito, anzi faccio parlare direttamente lui. Ciao Matt! Ciao Luca e intanto ciao a tutti gli amici marchigiani. Io sono qui per invitare tutti i talentuosi, tutti i talentuosi artisti in giro per le Marche a partecipare a questa seconda edizione di Artisti in Festa. È un progetto fantastico tra l'altro che dà la possibilità ai ragazzi, soprattutto agli artisti, chi ha talento di esibirsi su un palco, un palco reale, dove il 3 di settembre al ristorante Il Gambero di Porto Sant'Elpidio, tra l'altro tutta questa manifestazione supporta il progetto Filippi De Marche che aiuta i ragazzi autistici attraverso lo sport. Quindi c'è solidarietà, divertimento, talento, tutto mischiato in una serata. Il 3 di settembre. Grazie allora Matt e a presto, buon lavoro. So che stai lavorando a un nuovo disco quindi lo possiamo dire e quindi ci puoi dire anche l'uscita? Si parla con la Universal di settembre, speriamo che Covid permettendo. E allora magari fosse veramente il 3 di settembre, sarebbe proprio tombola. Ma sarebbe fatto a posta. Grazie, allora saluta gli amici artisti e invitali, vai. Mi raccomando, partecipate numerosissimi come l'anno scorso perché so che l'anno scorso erano più di 60 artisti sul palco. Quindi il 3 settembre, questa grande occasione, al ristorante Il Gambero di Porto Sant'Elpidio. Mi raccomando.